Ciao amici carpisti, sono qui per ricordarvi che l'8 al 9 giugno saremo presenti al Place to Be. Il Place to Be è un evento organizzato da Wild Lake Soncino in collaborazione con molte aziende del settore. Noi di Nesh saremo presenti ovviamente e potrete venire a trovarci toccando i prodotti con mano e perché no catturare qualche pesce in compagnia. Quindi ci vediamo l'8 al 9 giugno, Wild Lake Place to Be. Ciao!